Ma, scusi, lei di che cosa dubita? Io non dubito di niente. Non sono un socratico, ma sono abituato a focalizzare dei concetti. O dei preconcetti. Li chiami come vuole. Quindi lei, che ha il potere di decidere della libertà, della vita di tutti noi, lei si abbandona all'illazione. Così come fanno quelli che stanno massacrando il mio povero amico. E magari questo sistema lo usa anche nella sua professione. Eh già, tanto a chi deve rispondere se sbaglia. A chi deve rispondere se sbaglia? Um? Grazie.